Dal Vangelo secondo Marco Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Giovanni disse a Gesù Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva. Ma Gesù disse Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità, io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella genna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella genna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella genna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Pace e bene carissimi fratelli e sorelle, eccoci di nuovo insieme per un nuovo appuntamento con il Signore dei giorni. Siamo giunti alla ventiseesima domenica del tempo per annum e la liturgia ci fa riflettere su quanto sia importante edificare il regno senza temere chi compie opere nel nome di Gesù, perché chiunque opera nel suo nome non potrà parlare male di Lui. Chi non è contro di noi, dirà Gesù nel Vangelo, è per noi. Piuttosto che scandalizzare, dice Gesù, è meglio privarsi di quanto possa essere causa del nostro scandalo. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. Se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio entrare nella vita con una mano sola, con un occhio solo, che perire per sempre nel fuoco inestinguibile. Tutto sommato Gesù, con queste parole così forti, vuole invitarci ad una vita di fede autentica, una vita di fede che sia credibile agli occhi degli altri. Un uomo di fede deve pur distinguersi, in qualche modo, deve pur farsi riconoscere, deve essere chiaro il suo atteggiamento di fondo. Ciò che lo può rendere diverso è riconoscibile rispetto agli altri nella società in cui viviamo. Noi, carissimi amici, in forza del Battesimo, siamo chiamati a testimoniare colui che è la vera vita, a testimoniare Cristo, ad essere cioè santi perché Lui è santo. Cadremmo nella più grande contraddizione se manifestassimo una condotta opposta a ciò che diciamo di essere con la bocca, con le parole. C'è bisogno di coerenza. Ad una professione di fede pronunciata con la bocca deve corrispondere una testimonianza di fede mediante una condotta coerente di vita. Se ci poniamo in questa linea allontaneremo sicuramente da noi lo scandalo e chiunque ci avvicinerà non potrà che sentire il profumo della santità e della verità. Proprio nel versetto del canto al Vangelo diremo la Tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità. Sia questa allora l'esperienza di tutti noi battezzati. Avere sempre la piena consapevolezza che siamo stati, grazie ai meriti di Cristo, consacrati nella verità, trovando così il coraggio e la forza della testimonianza. Carissimi amici, diffondiamo nel mondo il profumo di questa consacrazione con la coerenza della nostra vita di fede. Pace e bene e buona domenica a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.